Buongiorno a tutti e benvenuti su milanogolf.it Abbiamo il piacere di avere con noi Stefano Croce che è la campionessa di golf che oggi si sequesterà come atleta per gli esercizi del tronco e degli addominali Bene, andiamo subito a vedere i primi esercizi Con le gambe piegate solleviamo la gamba e alzando i glutei andiamo a contrarre la musculatura del quadricimio che è unità agli addominali e la musculatura del gluteo Benissimo, facciamo anche l'altro sollevando sempre la gamba Una variante è la posizione isometrica Stai fermo Stefano, tieni e si sente Perfetto Andiamo a vedere il prossimo esercizio In quattro pedia andiamo a rinforzare i muscoli obliqui dell'addome e dei glutei Facciamo una rotazione buttando fuori l'aria apriamo il gomito, ruotiamo anche con la testa adesso Stefano ci fa vedere e andiamo a prendere l'aria e buttiamo fuori molto interessante rinforza tantissimo la musculatura paraveterale massa e degli obliqui degli addominali una variante è con le ginocchia in appoggia facciamo un altro gomito giusto per avere un'alternativa butto fuori l'aria chiudo e quindi è un movimento che ci presta tantissimo perché è il nostro movimento dello swing sia del back vuoi fare Stefania? Puoi aiutare anche nell'equilibrio insomma e quindi è molto interessante finirei con un esercizio di stretching Stefania per la zona lombare molto piacere andiamo a dare una mordosa accentuata della zona lombare e facciamo dei piccoli movimenti verso dietro avanti mantenendo sempre l'alco lombare com'è Stefania? bello però mi sento che mi sto stirando perfetto dopo una sessione di allenamento questo è molto utile direi che anche per oggi grazie alla preziosa collaborazione di Stefania abbiamo dato degli esercizi molto utili per voi golfisti e quindi ci vediamo alla prossima puntata e grazie a voi grazie grazie